Cianrico Carofiglio, lei oggi ha scritto un tweet a proposito della positività al coronavirus di Donald Trump che suona così Auguri di completa guarigione ma è impossibile non percepire il potente messaggio di giustizia poetica di certe notizie Cosa c'è di poetico? L'idea della giustizia poetica che poi è stata teorizzata da studiosi di letterature inglesi nel XVII secolo è che in una storia chi si comporta in un certo modo sbagliato agli occhi dell'autore poi ne subisce le conseguenze Io trovo sempre di cattivo gusto a prescindere, giocare, ironizzare, addirittura fare degli sberleffi rispetto alla malattia di qualsiasi essere umano forse anche il peggiore nostro nemico Però mi chiedo perché Carofiglio non ha usato la giustizia poetica o il significato morale delle vicende umane quando Zingaretti negando ben prima di Trump l'esistenza del virus venne a Milano a fare lo spiritoso e poi si ammalò ben prima di Trump e di coronavirus Allora non vorrei che questa giustizia poetica ancora una volta venga usata soltanto contro i nemici politici e non contro gli amici politici Rapida replica? No, veramente quando io sento il direttore Sallusti parlare di cattivo gusto mi arrendo perché so che è un esperto quindi non ho da aggiungere altro Non che mi offendo ma non ho capito dove è il mio cattivo gusto Se non si offende basta guardarsi la collezione del suo giornale per farsi un'idea precisa della categoria